Centinaia di persone in fila, anche a Marostica, per firmare la petizione sulla sanità della Pedemontana. Tanti cittadini ai banchetti organizzati per far sentire la voce del territorio su quanto sta accadendo al San Bassiano. Sul piatto le liste d'attesa lunghissime, gli spostamenti di sede, qui sono sottoposti i pazienti, la fuga di medici e primari, la carenza di medici di base e le dimissioni o la rimozione del DG Carlo Bramezza. Eccole le voci dei cittadini. Non era così l'ospedale di Bassano, adesso è proprio che non mi va bene, era molto migliore, molto più organizzato, adesso non mi sembra. Partire da qua per andare a Sant'Orso per una piccola visita, uno che ha 80 anni insomma come me, non vale la pena, insomma è ora di finirla con queste cose. Abbiamo firmato perché non ci va bene come sta andando l'ospedale di Bassano, bisogna andare privatamente e ha un costo. Per chi ha firmato? Eh perché non possiamo andare su Asiago per ogni roba, insomma, in altri qua abbiamo l'ospedale a 10 minuti di strada, no. E anche a me ho dei problemi anche a me e sono in notte a Bassano. Bassano anche per un intervento normale come una semplice ernia, un anno devi aspettare. Ho firmato perché vedo che le cose stanno peggiorando significativamente, a parte le liste d'attesa ma un po' tutta l'organizzazione. È ora di cambiare un attimo le spese superfule che fanno senza nessun rispetto per le persone che ci sono. Un ospedale che fino a qualche anno fa funzionava molto bene, era privilegiato in Veneto e adesso tutto un colpo cambia su queste cose qua. Almeno per gli anziani, che se soli, che non ha nessuno a mandarli a Sant'Orso, Asiago, dappertutto. E non c'è più rispetto per gli anziani, per nessuno, pensa solo a se stessi. E i nostri governanti, prima hai parlato tanto e adesso non ti senti più parlare di niente. Mi sono una che mi trovo sola, dove ho familiare, dove ho nessuno, se mi succede qualcosa, dove sei che vado. Una voce dopo l'altra, una firma dopo l'altra, per chiedere tutti assieme un deciso cambio di direzione. Per la sanità del territorio, per il San Bassiano, richieste, istanze, domande che non possono rimanere senza risposta.